Il lavoro su Bagnoli va avanti bene e all'attenzione del Presidente del Consiglio, quindi massimi livelli e credo che si va verso una soluzione importante su Bagnoli nelle prossime settimane. Stiamo facendo un lavoro importante su Bagnoli che va al di là dei due accordi, quindi si deve fare un lavoro istituzionale, importante, serio. Io sono contento che dentro ci sia la Presidenza del Consiglio che sta seguendo direttamente questa questione, quindi mi sento di dire che su Bagnoli si è veramente a quella svolta più volte annunciata, che va al di là di città della scienza e anche al di là della bonifica che già di per sé sono due risultati straordinari. Bagnoli attiene tutto a Bagnoli, quindi per il rilancio complessivo di Bagnoli che è un sito di interesse nazionale, nel lavoro ci deve stare il Governo e il Comune e anche la Regione. Tra l'altro ieri sera abbiamo fatto anche un incontro importante col Presidente Caldoro dove si è parlato anche di Bagnoli, quindi le istituzioni sono presenti e staranno della partita. La novità è l'impegno del Governo ai massimi livelli e noi come Comune che abbiamo fatto una parte straordinaria con l'ordinanza, vorrei ricordare, su Fintecna, la delibera di giunta per ridefinire il progetto strategico di Bagnoli, insomma c'è un lavoro veramente importante.